sistema migliore ragazzi è la boa endoscopica la infili la gonfi stai a galla sicuro e lasci per la bandierina fuori perché vai vai io ho bisogno che qualcuno vada davanti ma ci vado io ho detto davanti tu ora dovresti incastrare il culo nella barca abbiamo chiesto l'autorizzazione uscire dal borde sai cosa hanno detto si basta che appoggiate il profugo però secondo me si riferivano a te si vado devo andare a pro ragazzi una volta se culla e culla culla i barbari carrozze Vieni, ragazzi! Quelle becca proprio di fronte, proprio da stare! Perchè, rendono in gioco! Eccolo perché voleva qualcuno! Forse la yogurt dovrebbe essere la sera stessa... Casualmente più pesante, intendi! Vieni, ragazzi! Eeeeh! non è che effettivamente vederla non godo un cazzo, questa è grossa maio non guardare, non guardare maio il peco i due il trattorino è tranquillo e poi il pezzo del settore l'altro mio se lo fai dentro due volte questo bordo come facciamo che spettacolo ci ha voluto spaventare la giornata prima l'ho trovata con la vanguola aperta ma non l'ha persa tutta l'acqua vecchettine chettinette che maxette mi arrendo ragazzi mi arrendo alla corrente fa paura sembra di essere sul tappiù roulant una resa incondizionata una delusione non è troppo bello non è troppo bello non è troppo bello non lo facciamo anche la strada prossima eh micchi ce n'è del vero capitano di mare ma sai sono la stiamo inquadrando il tour sul tappiù roulant nell'endless pool eccolo lì c'è una corrente mondiale stiamo qua una settimana ha detto che non molla fino a quando non gira la corrente viene a casa mercoledì sera dai nolli non mollare non mollare dai maria vai vai ci siete dai grazie grande box vai 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 grande turo oh ragazzi è arrivato il turo non so se mi spiego eh era dato era dato uno a diecimila era dato figa turo che cagnaccio che sei sei un animale figa mi piace bigot sguado eh sguado eh spallonato ma come mai mi vai mi piace sguardo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.